Andiamo a vedere alcuni del precedente, l'Adriatico tra Pescara e Cremonese, questo è il gol di De Martino, era il 2 marzo 1986, la torre della Pescara, il compianto Enrico Catuzzi, campionato di Serie B. Questo è invece il primo gol di Rebonato, Pescara e Cremonese 2 a 0, 16 novembre 1986 su Torre di Bergodi, il calcio di punizione era stato calciato da Bosco, il raddoppio al minuto 81, fu decisa nel finale questa partita, non facile per i bianchezzurri, eccolo qui. Il secondo gol di Rebonato ne mise a segno 21 al termine di quella cavalcata triunfale memorabile, una squadra che era stata ripescata dalla C a spese del Palermo e vinse alla grande il campionato di Serie B con Galeone in panchina. Andiamo al 20 ottobre 1996, Pescara, Cremonese 1 a 0, lancio di Terracenere, il grandissimo gol di Ottavio Palladini sulla panchina del Pescara, c'era Delio Rossi, 20 ottobre 1996, naturalmente a Serie B. 16 maggio 1999, Pescara batte Cremonese 1 a 0, il gol di rapina di Esposito dopo un calcio di punizione poderoso, calciato, battuto da Michele Gelsi, la corta respinta ed Esposito che realizza il gol partita, tutto questo al 53esimo. Il 17 settembre 2005, allenatore Maurizio Sarri, campionato di Serie B, stiamo per vedere proprio Sarri al termine di quella partita, ha intervistato proprio da noi di Reteotto, Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, Pescara batte 3 a 1 a Cremonese, il cross di Croce, grandissimo gol di Fabrizio Cammarata. Pescara 1, Cremonese 0, il pareggio di Marchesetti, tre minuti più tardi al 18esimo e poi nella ripresa si scatena Davide Matteini, Davide Matteini prima un calcio di rigore che viene trasformato dall'attaccante del Pescara che spiazza il portiere della Cremonese e poi all'88esimo, proprio nei minuti finali, Croce che ruba palla, contropiede corto, Fulminio. Croce che appunto avanza, all'altezza dei 16 metri vede libero e lo serve proprio Matteini che non ha difficoltà a siglare il suo secondo gol, 3 a 1 per i Biancazzurri. Questo è l'ultimo precedente che vi abbiamo mostrato, tra l'altro all'Adriatico Giovanni Cornacca, sette vittorie, due pareggi, un solo KO, un KO datato 13 dicembre 1981. L'allenatore di quel Pescara che perse 2 a 0 con la Cremonese era Tidia, un campionato in fausto, terminato con la retrocessione in Serie C della squadra Biancazzurra. Beretti di Nicolini al 55esimo e di Sauro Frutti al 75esimo.